Alla vigna dei mille anni in località Iesca, nel comune di Serrara Fontana, oggi è giorno di vendemmia. Il suo patron, l'avvocato Benedetto Migliaccio, apre le porte della sua casa a parenti e amici. Ma questa è anche una vendemmia rotariana? Sì, è la sesta edizione della vendemmia rotariana, ma è un momento in cui soprattutto ci si spoglia, ci si spoglia dei panni abituali. Abbiamo avuto i saluti dell'ambasciatore del Cile, che sarebbe venuto volentieri, ma c'è la festa nazionale cilena venerdì, quindi stanno organizzando. Tutti quanti si spogliano di questi panni abituali. Oggi diventiamo tutti quanti figli di queste terre, approfondiamo la cultura, i paesaggi culturali che sono legati a questi territori, il piacere di riscoprire le vedute, quell'ischia differente che seppe incantare i grandi viaggiatori dell'Ottocento, che ancora oggi, come ben vedete, incanta professionisti, medici, avvocati, ingegneri. Ci sono tutti. Il fascino di questo appuntamento è diventato un po' cult. Perché? Perché ha un'anima, che è l'anima autentica della ischia che non si dimentica, che si porta nel cuore, quando, anche come me, durante la massima parte dell'anno sono fuori, però questi momenti ti riscaldano e ti ricordano questi paesaggi, queste sensazioni meravigliose, che poi fanno parte di tutta la nostra essenza, il nostro carattere, ci hanno forgiati e rappresentano anche il nostro futuro. Mia figlia è qui, spero che con lei tutti i ragazzi che sono venuti possano condividere queste emozioni e trasferirle in un futuro prossimo, per modo che queste sensazioni, ecco, non si abbia un qualcosa di effimero, si abbia qualcosa di stabile, qualcosa di veramente autentico per il nostro patrimonio culturale. È un giacimento che non deve essere mai chiuso. Parliamo di vino, che vendemmia si prevede? Pare che sia ottima, naturalmente l'enologo è Andrea, quindi è lui a cui dobbiamo chiedere. Mi è stata data una referenza straordinaria, perché pare che abbia piovuto al momento giusto, abbia fatto caldo al momento giusto, la produzione non è abbondantissima, ma sapete che la vigna dei mille anni non va, non va per quantità, ma per qualità. E pare che quest'anno sia un grande vino, dobbiamo aspettare due anni, perché naturalmente va in barrique, va affinato in barrique, però tra due anni verremo il frutto di questa raccolta. È quello che abbiamo raccolto noi con le mani in questa giornata bellissima. Sessa edizione della vendemmia alla vigna dei mille anni, che vendemmia si prevede? È leggermente più abbondante, finalmente, degli anni scorsi, anche perché poi la vigna sta andando nel pieno della produzione. Quindi penso che quest'anno arriveremo ai 160-180 quintali d'uva. Questo del 2016 andrà in commercio nel 2018. Quindi chi ha tagliato una cassetta d'uva avrà diritto di bere la bottiglia del 2018. Quante bottiglie? Per adesso noi stiamo in commercio nel 2013, e stiamo attualmente sulle 8.000 bottiglie. Da considerare che è un prodotto di nicchia, che io do solo alla ristorazione e ai privati, però la sua immagine sta crescendo. Devo dire che in tanti anni e tante tipologie di vino che ho creato, dal Frassitelli in su, eccetera, eccetera, è la prima volta che non ho una critica negativa su questo prodotto. E questo mi fa enormemente piacere anche perché io sono un bianchista come enologo. E quindi fare un russo di buon livello mi ha dato una grande soddisfazione. E poi, come avrete visto, qui c'è soprattutto l'opera del recupero del paesaggio che è importante. Cosa che sto facendo anche in altre zone dell'isola d'Ischia, tipo sotto l'Ecomeo verso la strada militare, ho recuperato due ettari, a Fiaiano anche. Insomma c'è un certo fermento perché in un momento che capita, dove il prodotto ischia, soprattutto i doc, sono, c'è il Biancolella, il Forastera, il Pere Palumo, sono richiestissimi e addirittura le vigne che io sto impiantando, il vino che ne verrà prodotto tra un paio d'anni sono già prenotate. È un momento favorevole per tutti i produttori ischitani, sia viticoltori che vinificatori e spingo proprio tutti quanti a ricoltivare la vigna che poi è il nostro bene maggiore. Cioè noi abbiamo una storia, come sai, ultramillenaria che i cugini francesi ci invidierebbero. Molte volte non è comunicata bene, ma tutto quello che io amo ripetere, tutto quello che noi oggi vediamo sull'isola d'Ischia, l'attuale economia, quella del recente passato, è tutto frutto della vite e del vino. Cioè da quando è stato aperto il porto, nel 1850, all'opera di Ferdinando II di Polpone, da lì è partita l'economia vitivinicola dell'isola e su questa pilastri che poi si sono poggiate, le altre economie, quella turistica e balno termale. Spetta a noi, nel prossimo futuro, salvare queste stupende tradizioni che noi abbiamo, per cui abbiamo da raccontare tantissimo. Per cui il vino oggi, al di là della qualità, se c'è la qualità è certamente un fattore in più, si vende con la storia. Quindi tutto questo panorama internazionale, dove ci sono vini omologati, queste nicchie di mercato che raccontano il paesaggio, sono quelle più facili da vendere, tra le altre cose. Sesta edizione per la vendemmia rotariana, è sempre con uno scopo sociale? Sì, anche quest'anno abbiamo uno scopo sociale, come sempre, perché il Rotary si presta appunto a delle attività di service. Quest'anno, innanzitutto, ci tengo a sottolineare che è un interclub con altri club di Napoli, è qui presente il Rotary di Pompei, con una nutrita rappresentanza di 13 soci, è presente anche Napoli Nord-Est. Peccato per il tempo, perché all'ultimo momento invece Castel dell'Ovo è venuto meno, però lo scopo era di mettere insieme più club per una raccolta fondi per i terremotati. L'idea era di devolvere qualcosa, come l'anno scorso fu alla Rotary Foundation per la Polio Plus, per l'eradicazione della Polio. Invece, visto gli ultimi eventi, l'idea del club è di raccogliere dei fondi, dopo faremo anche un'estrazione di alcuni premi gentilmente offerti da artisti isolani e tutto quello che raccoglieremo in questa giornata, ma non solo perché ci saranno altre manifestazioni per raccogliere dei fondi, saranno poi devoluti al distretto, che in prima persona curerà poi, diciamo, un intervento nelle zone terremotate con la ristrutturazione probabilmente di una chiesa, di un ospedale e quindi non presteremo, come sempre diciamo, soli soldi, non facciamo beneficenza, ma ci saranno delle professionalità del Rotary, quindi ingegneri, geologi, architetti che metteranno a disposizione la loro professionalità per la ristrutturazione di queste opere. L'architetto Alessandro Cassagnolo è facile, un ospite che si incontra praticamente sempre alla vendemmia dei mille anni. Beh, per me è un onore e un piacere essere in questo posto magico, grazie a Benedetto Migliaccio, che mantiene ancora un pezzo di Ischia in una maniera, mantenendo la natura, rispettando quei caratteri paesaggistici, salvaguardandola, anzi valorizzandola moltissimo. Quindi diventa un appuntamento al quale assolutamente non posso mancare. Maurizio Di Stefano, console generale a Napoli per l'ambasciata del Cile. Anche lei è qui ospite di Benedetto Migliaccio. Immancabile appuntamento con l'avvocato Migliaccio, con la sua capacità di coniugare il landscape, il paesaggio, la natura, con la convivialità e la qualità anche culturale del vino e delle sue tradizioni, che riesce a tenere sempre molto alte e a riunire tanti amici. Quindi è un'occasione per stare con tante persone, ritrovare le caratteristiche flegree dell'area nostra, dell'isola. Per chi come me frequenta e ama quest'isola da molti decenni, è un'occasione straordinaria. Anche Nunzia Sena, presidente del Garden Club, ospite di Benedetto Migliaccio. Certo, e non potevo mancare in una tenuta meravigliosa che l'anno scorso è stata anche visitata dai soci del Garden Club, è una giornata ricca di storia, di bellezza naturale e anche di culinaria. Quindi è una tenuta da tenere presente perché è uno di quegli angoli nascosti di Ischia che hanno bisogno di essere visitati e conosciuti, perché è l'altro lato della bellezza della nostra isola. Il Rotary continua ad impegnarsi nel progetto per debellare la polio? Sì, anche quest'anno andremo avanti e sempre più intensamente, sperando nel 2018 di eradicare completamente la polio dal mondo. Il nostro impegno è rivolto non solo per quegli stati dove la poliomielite è ancora un problema attivo, dove oggi ancora bambini si ammalano e rimangono poi paralizzati, ma l'impegno è quello anche di mantenere negli stati dove la vaccinazione non è ancora garantita dai servizi sanitari nazionali, un'adeguata copertura vaccinale. Senza dimenticare che anche in Italia è importante sensibilizzare alle vaccinazioni, perché il rischio è che la copertura vaccinale si riduca, che la percentuale di soggetti vaccinati si riduca e questo permette al virus di rientrare. Quindi l'impegno non è solo quello di mantenere un'adeguata copertura vaccinale nelle nazioni sottosviluppate, ma anche quello di sensibilizzare l'opinione pubblica nelle nazioni come l'Italia, dove purtroppo ci sono delle campagne che tendono a disincentivare alla vaccinazione. Questo facendo poi aprire la porta al ritorno di malattie che credevamo estinte. Quanti casi si verificano oggi in Italia? Oggi in Italia per fortuna non si verifica più nessun caso di poliomelite. Sono oramai pochissime le persone che ancora vivono in Italia con gli esiti di una infezione contratta 40-50 anni fa. Però dobbiamo rimanere allerta, sapere che le vaccinazioni sono importanti per impedire che questi mostri possano rientrare. Anche il presidente del Rotary Club di Pompei presente qui alla vendemmia di Benedetto Migliaccio. Sì, io penso che il Club di Pompei abbia fatto una cosa eccezionale. Rispetto ai club napolitani che hanno avuto paura del tempo, ma il tempo a disca secondo me è sempre clemente, quindi è sempre bene. E ringraziando anche Antimo Lupoli, il presidente del Rotary Club di Disca, abbiamo aderito in anche folto numero a questa bellissima idea, straordinaria idea di Lupoli e Migliaccio. Perché non solo abbiamo visto e conosciuto il proprietario di Vini d'Ambra, un vino che dà prestigio a disca in tutto il mondo, ma l'abbiamo anche assaggiato, la cosa più bella. E poi devo ricordare anche da cardiologo che il vino rosso è un grande antiossidante e con questa stupenda vigna che abbiamo visto, col vino rosso che abbiamo raccolto, penso che la giornata sia stata veramente fantastica. Dottor Fimiani, innanzitutto la conviviale è fantastica. Eccezionale. Poi il tempo ci ha anche, come dire, aiutato perché è coperto, non c'è molto sole, poi la vendemmia è eccezionale, è a casa Migliaccio e anche la conviviale adesso, come sa, è andata molto bene. Hai raccolto molte cose. Cinque casse. Complimenti. Grazie. Noi siamo degli abituati e quindi ormai ci siamo abituati alla bellezza del posto e diciamo alla sua straordinaria magia. Non è la prima volta e ogni volta resto sempre suggestionato perché non è facile trovare una zona di territorio così suggestiva, così straordinariamente importante dal punto di vista paesaggistico con un panorama del genere e dove c'è un signore che si chiama il nostro ospite Benedetto Migliaccio che ha preso a cuore le sorti del territorio e ne sta curando la sua organizzazione anche agricola nel rispetto del contesto territoriale. Quindi ben vengano e gli auguro di continuare a operare in questa maniera perché sta salvaguardando dall'abbandono un territorio che merita in maniera particolare da tutti i punti di vista. Quindi lo ringrazio personalmente e spero che ripetiamo queste esperienze straordinarie. Sindaco Paolino, una conviviale bellissima che guarda sul tuo mare, il mare de Maron. Una conviviale bellissima e per questo ringraziamo l'avvocato Migliaccio ovviamente che ci ha ospitati qui in questa location eccezionale dalla quale si vede secondo me diciamo la vera essenza dell'isola. Il mare, le montagne, i valloni, le vigne, la nostra vocazione marinara ma agricola in particolare. E non per niente siamo a una famosa vendemmia che ogni anno si fa qui sull'isola di Ischia. E penso che Ischia da qui offra uno spettacolo se poi il tuo cameraman che penso avrà già immortalato queste immagini spettacolari ci dica poi perché tanti turisti dicono che sia stupenda e noi siamo d'accordo con loro. Gianni Mattera, operatore turistico, ristoratore, la conviviale qui è fantastico. Stupenda, unica, sia per il posto che poi per la compagnia che non conosco tutta ma più che interessante. Aldo Imer, sovraintendente per l'isola di Ischia, ospite fisso alla vigna dei mille anni. Bene, ci ritroviamo di nuovo qui in questo posto un luogo di incanto con amici e persone c'è un parterre molto 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 degno proprio di questi luoghi. Questo luogo è direi che è anche un luogo magico perché potrebbe diventare anche un punto di avvistamento perché si percepisce un po' tutta la grandezza e la bellezza di questa terra. felicissimo felicissimo di avere tutti quanti voi a casa mia sono felicissimo di dare il benvenuto a casa mia come ogni anno agli illustri ospiti ho vicino a me due dei miei più cari amici un altro c'è da davanti che si nasconde sono felicissimo che questa giornata contribuisca a ricordare a tutti quanti che l'isola di Ischia è piena di paesaggi culturali piena di paesaggi che non rappresentano soltanto delle scenografie ma che vengono vissute vengono vissute in giornate come questa calpestando la terra e ricordando che da essa tutti quanti noi abbiamo origine siamo tutti figli di contadini e per un giorno è bene ricordato ma questo è un giorno speciale perché è un giorno di sorriso un giorno di sorriso e io devo ricordare un attimino una persona il cui sorriso ha sempre esaliato questa giornata e che ha fatto sì che questa giornata sia nata e sia ancora oggi conservata Gian Giacomo ci manca abbiamo la moglie che è con noi e sarà sempre Gian Giacomo con noi perché questa giornata è una giornata che porta in presto indelebilmente il suo marchio ringrazio gli amici che mi hanno accompagnato in questa avventura allora Michele il menù di quest'anno allora quest'anno abbiamo fatto le bruschette fagioli e pomodori poi abbiamo fatto la pasta e cosa con il pomodoro con il pomodoro con il pomodoro fresco poi abbiamo fatto la salsiccia poi abbiamo un po' di carne si mangia un po' di carne poi abbiamo le zeppole e poi il caffè il rugolino vino e acqua mangiano questi ospiti è vero? ma mangiano anche i piedi della tavola mangiano tutto perché hanno fame scendere qua giù è sempre un'impresa non dando vacile è vero? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.